Occuparsi della famiglia sette giorni su sette non è un lavoro? Dal 26 di settembre, se saremo al governo, approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme. Ricordatevelo. Il 25 settembre in Toscana, per votare al Senato della Repubblica Massimo Mallegni è facile, devi fare soltanto una croce sul simbolo di Forza Italia.